Sono contentissima perché ho un sorriso veramente favoloso, io e mio marito. Abbiamo trovato questa equip che si occupano di impianti, denti, pulizia, insomma tutto quello che volete per avere un bel sorriso e soprattutto per avere una bella bocca con una buona salute perché i denti e la bocca sono molto importanti. Abbiamo trovato, e soprattutto mio marito che ha trovato questa bella equip del dottore Palma, su internet. Siamo venuti tre anni fa per mio marito perché lui non aveva tre denti, aveva sempre problemi di infezione, non poteva mangiare, poverino, non poteva sorridere, non poteva parlare, niente di niente. Eravamo un po' titubanti perché abbiamo detto in Moldavia, insomma non è da tutti poter andare in Moldavia, non conoscevamo, però siamo venuti tre anni fa per mio marito, una cosa veramente incredibile. Avevo molti problemi, infezione, non avevo osso, i denti di sotto erano una catastrofe. Siamo venuti poi l'anno dopo, mio marito per il secondo step e io per il primo step. Devo dire che la clinica è un gioiello. Il personale a me è piaciuto, tutti gentilissimi. La pulizia, non ho mai visto una pulizia così. Professionalità, nickel, sono contentissima. Questa è la terza volta che vengo in Moldavia. E francamente faccio pubblicità un po' a destra e a sinistra perché mi piace tutto nella Moldavia. E soprattutto sono contenta, prima per mio marito, perché in Belgio tutti i dentisti, non c'era nessuno che lo voleva curare. Perché a parte il fatto, questo lo devo dire, mio marito ha dei problemi di respirazione. Ed è stato il dottore Michele che ha saputo prendere il caso di mio marito a cuore e ne sono veramente molto grata. Tutti gli altri sono pure bravi, bravissimi. Però ha risolto il problema di mio marito. Io sono contentissima per la mia bocca. Se sapevo venivo prima qui. Chapeau, chapeau. E sono contenta di aver trovato questa clinica. Grazie al dottore Palmas, ma soprattutto al dottore Palmas, mi dispiace, ma grazie al personale, a tutti gli impiegati che ha. Nella mia vita sociale tutti mi dicono che ho 10-20 anni in meno. Mangio tutto quello che voglio senza nessun problema. E la Moldavia è bellissima, venite perché si mangia troppo bene.